8 persone, 8 idee di città, tutti in pista per la poltrona più alta. I candidati sindaco dell'Aquila si confrontano in diretta su abruzzo24ore.tv, giovedì 3 maggio alle ore 9 del mattino. Domande ficcanti che i candidati si faranno l'un l'altro per una puntata speciale dell'irriverente da non perdere. Seguici in diretta streaming giovedì 3 maggio alle ore 9.